Caro Parenzo, colpevolmente ho messo e so che le mie responsabilità sono tante, lo so che tu me ne attribuisci tante di responsabilità enormi Io sono senza parole, io penso che tu in questa settimana hai certificato che hai distrutto questo paese tra il generale Pappalardo che già da anni viene qui intervistato, la squirtatrice Hai il paese che vive in una difficoltà enorme dopo il covid, tu dovresti essere processato al tribunale dell'AIA per crimini contro l'umanità No, in Italia per alto tradimento, perché hai distrutto questo paese, alto tradimento, vai processato per alto tradimento Poi al tribunale internazionale per crimini contro l'umanità, 20 minuti di quella che si confronta con l'altro cattolico C'è come se l'Italia fosse questo, il cattolico tradizionalista pazzo scatenato e quella che ti dice di andare a casa di una con le cose del led Ma di che stiamo parlando? Col getto dell'acqua più grande, la fontana, il dolbisterio, ma l'avete sentito? Ma sei pazzo sei, sei pazzo!